Ben tornati sul canale e continuiamo il gameplay di Halo 2, Master Chief Collection. Deve riuscire dove gli altri hanno fallito, abbassa lo scudo che protegge l'icona sacra. Ok, siamo tornati nei panni dell'Armiter. Ho avvenuto morti ovunque. Attiva il pistone. E questi pistoni sono come praticamente delle porte, dei portali. Mi avvicini a uno dei generatori dello scudo. Molti dei miei brut sono caduti nel tentativo di distruggerlo. Vediamo se saprai fare di meglio. Grazie. Grazie. Continuiamo a scendere. Una sentinella gigante. Non serve avvicinare frontalmente un Enforcer, specialmente quando ha gli scudi attivati. Un Enforcer si chiama. Aspetta che se ne vada. Quindi colpisci la bestia mentre ti dà le spalle. La bestia. Sì, puoi costearmi. Sì, puoi costearmi. Dobbiamo sparargli da dietro. Un Enforcer ha battuto. Esattiva la chiusura ermetica. Esattiviamo la... Esattiviamo le chiusure ermetiche. Uno scudo di contenimento. Oh. Ah, puoi rende ben tutto. La strada verso la biblioteca è libera. Ci vediamo sulla cenza più avanti. Praticamente stiamo in parte rivivendo gli eventi del primo Auro. Allora, dannate macchine. Sponda la parete, Arbiter. La biblioteca. Ok. Questa è confinata. Sponda la barba. La barba. Allora. Ma presto. La barba. La barba. Governando le armi degli umani Governando le armi degli umani Ok Now 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 Eh bastardelli I rude più piccoli Sono quelli che Praticamente E' che Cazzo Sono quelli che Praticamente Prendono il controllo Dei cadaveri Prendono il controllo Prendono il controllo Ok Una volta distrutte le sentinelle Distruggiamo le forze Prendono il controllo Prendono il controllo Prendono il controllo Qui abbiamo il doppio dei nemici I flood da una parte E le sentinelle Dall'altra Prendono il controllo 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 Ma che cazzo è Con un colpo Prendono il controllo Prendono il controllo E' Vaffanculo Prendono il controllo Prendono il controllo Prendono il controllo Carichiamo Visibilità Grazie E qui? Wow. E' una zona innevata. Eh sì, proprio come era nel precedente capitolo. Il centro di comando e l'indice si trovavano, cioè la biblioteca, in una zona montanara. Oh no! 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 La guerra dei centomila anni. Oh no! 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 almeno qui sulle torrette non siamo un po' più al sicuro almeno qui sulle torrette almeno qui sulle torrette ah ma era lui? sì ok 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 io ti seguirò io ti seguirò quando arriveranno i rinforzi ok 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 vediamo vediamo ah ci sono i veicoli oh aspettatemi cazzo aspettatemi ah 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 Che cosa succede? Che cosa succede? Sì, 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 sì. Non fermate, sto arrivando Il problema è che stiamo senza Oh oh un bello scorpio si ragiona di più una convenzione salutare a un bello un bello un bello e ok L'altro carro ci sta lasciando, purtroppo non è che abbia... L'altro carro! L'altro carro! L'altro carro! Cazzo! Il flood controllano... Hanno imparato a controllare i veicoli! Bravi, bravo! Ora sono più pericoloso! Cazzo! 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 Bisogna prenderlo? Sì! Questo Scorpion è più... più in salute. Sì! 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 Aia! E qui, mio caro Scorpion, ci lasciamo. Sì! Sì! Grazie a tutti. 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 No. 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 E che cazzo Spara minchia Deletto Spara minchia Spara minchia E' partito il filmato In versione non HD Altri umani saranno qui in cerca dell'icona Tu procedi Arbitral, mi occuperò io di queste bestie Vedo che il codardo non è venuto Farò il possibile per tenere lontani Flood Non possiamo lasciare l'icona agli umani Il gerarchi non tollereranno il nostro fallimento Sono stanco di non avere un bersaglio Moligono di tiro Guarda, più avanti Il parassita si prepara ad attaccare La salvezza passa attraverso la mia montagna Vi sono forte Stupida Ridurrò io il loro numero Omani, me ne occuperò io Ok Figli di puttano Grazie a tutti Grazie a tutti Elite fluttati Sempre ascensioni Grazie a tutti 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 Miranda Miranda Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti